L'anno scolastico 2020-2021 è arrivato alla conclusione per la stragrande maggioranza degli studenti. Nei prossimi giorni si concluderanno anche gli esami di Stato. Per la verità però gli occhi di tutti sono puntati sulla ripresa a settembre e sui mille problemi in sospeso, a partire da quello dei posti di sostegno che, per l'ennesima volta, saranno coperti da docenti non specializzati. Tuttavia va detto che proprio ieri nel corso del Question Time alla Camera il ministro Bianchi ha annunciato che il MEF ha autorizzato l'attivazione di percorsi di formazione di specializzazione aperti ad almeno 90.000 docenti per il triennio 2021-2024 e ha anche detto che per affrontare l'emergenza delle classi troppo follate e per rivitalizzare l'autonomia scolastica ci sarà una vera e propria riforma strutturale che consentirà alle scuole di organizzare l'attività didattica superando il modello delle classi coincidenti con l'età degli alunni. Non si tratta peraltro di una novità perché l'idea era già stata inserita nei mesi scorsi nel testo del PNRR anche se per ora non è ancora chiaro come potrebbe essere concretamente realizzata. Infine per quanto riguarda l'avvio a settembre sempre durante il Question Time del 16 giugno Bianchi ha assicurato che con l'inizio delle lezioni tutte le cattedre saranno coperte o con personale di ruolo o con supplenti annuali assunti già da subito perché al Ministero si sta lavorando intensamente per poter effettuare tutte le nomine in tempo utile. Senza dimenticare che ci saranno posti di sostegno in più e anche un altro miliardo di euro per fronteggiare le diverse emergenze comprese quelle relative ai trasporti. Sulle ricette del Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi critico Rino Di Meglio coordinatore nazionale di Gilda Insegnanti che afferma pensare di risolvere la nostra questione delle classi pollaio ripensando l'attuale modello della classe significa soltanto creare una cortina fumogena intorno al problema. Peraltro posto che il lavoro per gruppi di livello e non di età è una scelta didattica che rientra nella libertà di insegnamento una diversa distribuzione di alunni non cambia le cose se non si aumentano organici e spazi della didattica. Quanto all'avvio dell'anno scolastico Gabriele Toccafondi capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera si dice preoccupato e dichiara è doveroso fare in modo che a settembre l'attività scolastica possa riprendere al 100% in presenza. La didattica a distanza infatti è stata adottata in media quest'anno scolastico per 37 settimane un dato drammatico per i ragazzi e avverte presto dall'invalsi avremo la conferma molto dolorosa che la didattica a distanza non aiuta. Intanto in almeno 6.000 scuole si sta lavorando per organizzare le attività del piano estate anche se c'è chi parla di risorse insufficienti e di pochi insegnanti disponibili. Resta il fatto che è la prima volta che viene avviato un progetto di questo genere e quindi le difficoltà sono inevitabili. In ogni caso Patrizio Bianchi si dice soddisfatto e fornisce un dato. I progetti autorizzati consentiranno di organizzare 1.600.000 ore di attività che coinvolgeranno centinaia di migliaia di studenti e tra l'altro va segnalato anche che probabilmente a partire da luglio proprio con l'avvio del progetto scuole estate potrebbe cessare l'obbligo dell'uso delle mascherine almeno all'aperto. Su tutto questo noi ovviamente continueremo a tenervi informati sia su questo canale sia nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it continuate a seguirci scriveteci mandateci le vostre osservazioni e i vostri commenti noi ne daremo conto come di consueto. Grazie 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 a tutti